è un piacere di nuovo avere qui oggi accanto a me Phil Palmer che tutti naturalmente conosciamo ciao Phil bentornato su HTO, oggi un campione della musica prestato al tennis oggi anche tu hai voluto prestare così il tuo volto comunque per una causa importante tennis e salute oggi è la decima giornata mondiale contro l'ipertensione assolutamente, l'esercito è molto importante, qualcuno ha detto a me che non giocavi il tennis per essere fit ma si è fit per giocare il tennis e penso che è così che vivo e quindi, ancora, sono molto felice di supportare il lavoro del Gimeli Hospital e vorrei felice fare tutto ciò che posso per aiutare ti abbiamo prima visto giocare, hai vinto? e quello è l'importante, progetti futuri? ok, ora stiamo lavorando su Diastrate's Legends che è il nucleo di Diastrate's band senza Mark Knottler e abbiamo con noi John Illsley che è il ragazzo originale sul basso e Steve Ferroni che è un amico molto buon amico e è una grande piccola band e stiamo attualmente in Italia grazie mille è un piacere grazie mille grazie mille